Con l'obiettivo di fermare la strage silenziosa sui luoghi di lavoro, in piazza San Pietro a Coppito, in pieno centro storico, dove dietro si vedono gru e cantieri, si è svolta un'assemblea di lavoratori e lavoratrici per parlare di lavoro irregolare o precario e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In Italia ci sono stati 185 morti sul lavoro nei primi tre mesi dell'anno, in provincia tre morti rispetto ad uno dell'anno precedente, in regione 11 morti dall'inizio dell'anno rispetto a tre dell'anno passato, considerando sempre lo stesso trimestre. I sindacati chiedono strumenti e maggiori investimenti in formazione, tecnologia e controlli capillari nei luoghi di lavoro. Oggi è l'anniversario dello Statuto dei Lavoratori, abbiamo deciso di organizzare un'assemblea con i lavoratori edili del cantiere più grande d'Europa, per rimettere al centro del dibattito la discussione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Dal report trimestrale dei primi tre mesi, rapporto 2020-2021, in Abruzzo siamo passati da tre morti sul lavoro ad 11, in provincia dell'Aquila da uno a tre. È chiaro che la necessità è quella di fermare immediatamente questa strage. Per fare questo bisogna rimettere al centro della discussione gli investimenti, investimenti in sicurezza, che vuol dire in controlli, che vuol dire sicuramente adempiere a quelle che sono le normative, con investimenti anche sul personale, sulle dotazioni organiche degli enti di controllo. Gli investimenti ci saranno sicuramente, noi siamo alla vigile del più grande investimento di sempre, almeno per quanto riguarda questo Paese. Ora però non sarà indifferente su come verranno utilizzati questi investimenti e queste risorse, non sarà indifferente ad esempio se le gare verranno assegnate per assegnazione diretta o invece si faranno i bandi pubblici, valorizzando così la qualità dei progetti e la sostenibilità delle materie. Non sarà indifferente se in futuro assisteremo ancora a un proliferare del dumping contrattuale o se invece riusciremo finalmente ad applicare nei cantieri e agli edili il contratto dell'edilizia. Gli investimenti non sono neutrali, gli investimenti vanno orientati e in questo caso vanno orientati alla creazione di occupazione di qualità stabile e sicura. Il sit-in è stato promosso unitamente da CGL e Cisle Will che hanno portato in piazza le loro bandiere, i loro lavoratori e le loro rivendicazioni.